Dai, pronti? Aspetta, prima! Quanto tempo! Quanto, quanto! Quanto! Quanto tempo! Quanto tempo! Oh, anime gentili! Lasciatemi ancora in vita per... Per... Per qualche tempo... Registriamo, tolto l'audio... Perché l'amore, veramente? Aspettate, per cortesia. Allora... Tagli al malfattore! Tagli al malfattore! Non guardare mai! Renderai conto ad io! Anima malnata! Anima malnata! Guardate, guardate! Le mani? Non guardare mai mai, di nuovo? No, vabbè, non ti preoccupare! No, vabbè, non ti preoccupare! move it, move it move it la facciamo senza move it manco ci sono due colpi per fare due in un ah bello stop ja non è così no ritus quindi quindi mer�� paese un anno per quindi